Noi siamo in divergenze, oggi... Scusa, un'informazione... Piazza di Spagna... Allora, Piazza di Spagna dovrebbe essere... Allora, tu segui dritta quella strada... E poi te la ritrovi di fronte, praticamente... Sì? Hai capito cosa ho detto? Né, niente. Signora, scusi, un'informazione... Dovrei andare a Piazza di Spagna, saprebbe dove è... Ma, questo... Oddio, che carino quel palo! Bello! Scusa, Piazza di Spagna? Mentre... hai visto questa... questa... Scusa, un'informazione veloce... E... sapresti dirmi dov'è... Eh... Piazza Cavour... Che mi sono perso... Piazza... Piazza Cavour... Piazza Cavour? Sì, Piazza Cavour che mi sono... Grandissimo! Ciao, ciao! Grande, ciao! Hai visto... questa... questa chiesa qua? La strada a sinistra vai tutto dritto... Un secondo, eh... Un attimino... Può andare come profilo? Dove? Whatsapp? Grazie! Piazza di Spagna... Allora, per Piazza di Spagna... Ti fai tutta via del Corso... Poi trovi una via... Via Condotti... Continui per Via Condotti... Esci su... Piazza di Spagna... Ma secondo te stasera è meglio se mi faccio Carbonaro o Matriciana? Ma vedi te che ne so... Ok, grazie... Scusi... 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 Piazza... Piazza... Di Spagna... Piazza di Spagna... Ehm... In questa direzione... Sei bello come il sole... Scusate... Un'informazione veloce... Piazza di Spagna che non mi sono perso... Ma hai detto a via del Corso... Vedi a lei il Romano... Vedi a via del Corso... Sempre ditto... Quando vedi via Condotti... I tiri... Non ti vedi a pratica... Ha finito? Ha finito? Sì... Non ben c'è... Sì... C'è ancora... C'è ancora molto da spiegare? Andrei di fretta? No... Piazza Risorgimento... Piazza Risorgimento... Guarda ti conviene andare da quella parte... Sempre dritto... Però è un po'... Un po' lontana... Cioè devi attraversare il ponte... Tipo le altezze? Eh... All'altezza sta... Più o meno... Quest'altezza... Eh... Quest'altezza... Tipo... Tipo come? Non lo so... Dimmi te... Tipo... Non lo so... Una stedia... Attraversa il ponte... Vai a Piazza Gavur... C'è una via... Via Crescensio... Che ti porta direttamente a... Piazza Risorgimento... Scusate... Un'informazione... E... Piazza Gavur... Siamo anche noi turisti così... Non so... Bene... Al volo... Cioè... Più o meno... Sai anche altre robe vicine... Importanti... Eh... Scusate... Se sai altre cose... Importanti... Vicino a Piazza Gavur... Che zona è? C'è che... Non saprei... Cioè... Perché... Non è che sono... Poco della zona io... Eh... Ma neanche noi... Non sappiamo... Mi piace... Che cosa? Scusate... Non ho capito... Cioè... Cioè... Cómo... Cioè...